Bentornati, buonasera, bentornati a Quarta Repubblica, l'uomo del momento, quando non lo è però, Matteo Salvini, ogni giorno è il suo giorno, perché adesso... Sono tutti quanti della sezione della Lega di Milano. Senta Salvini, la domanda è evidente, la prima domanda è che cosa sta succedendo con queste navi, con 49 profughi che sono in giro per il Mediterraneo e soprattutto che succede se c'è una differenza tra il suo punto di vista e quello del Presidente Conte che dice una quindicina di famiglie portiamocene qua in Italia. Ma io voglio fare tutto quello che è umanamente possibile per fermare il traffico di esseri umani. Queste nonne e questi bambini vanno aiutati ad avere un futuro sereno nel loro paese senza rischiare la vita, attraversando il deserto, mettendosi su un barcone, anche perché gli scafisti, grazie a questo traffico di esseri umani, poi comprano armi e droga che vengono in Italia. Io personalmente ho firmato anche per quest'anno, per il 2019, i corridoi umanitari che faranno arrivare in aereo accompagnati da ONG vere e serie, donne e bambini che scappano dalla guerra. E queste non sono ONG serie, si watch e si ha le due bambini? Questi sono furbetti, questi sono furbetti che cambiano bandiera, cambiano equipaggio, non rispettano le regole. I porti italiani per gli scafisti e gli amici degli scafisti sono e rimangono chiusi. Anche se non formalmente. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, non è possibile. C'è una nave tedesca, una nave olandese in acque maltesi. Malta, Germania e Olanda facciano finalmente il loro dovere. Noi l'abbiamo fatto fin in fondo, abbiamo accolto più di un milione di persone. Guardi che cosa dice il suo collega Di Maio. 10 secondi, guardiamo la clip. Noi stiamo dicendo che devono sbarcare a Malta e se serve ci prendiamo donne e bambini. Ma Salvini questo non piace, Ministro. Questo è il punto e questa è la nostra posizione. Poi se qualcuno mi viene a dire donne e bambini no, io ancora nessuno ho sentito che mi ha detto no. Poi se il tema è se devono arrivare le imbarcazioni in Italia, questo io non l'ho mai detto. Abbiamo sempre detto che quelle imbarcazioni devono sbarcare a Malta. Salvini però dice che rivendica la titolarità sulla politica dell'immigrazione, quindi è un no. I voti sono chiusi a dentro. Nessuno gliela vuole togliere, però questa è una decisione che prende il governo intero, come abbiamo sempre fatto. E ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come governo fino ad ora sull'immigrazione. Sto solo dicendo che se serve donne e bambini, li si fanno sbarcare, li si manda in Italia, perché Malta e l'Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini. Sentiamo cosa dice. 15 famiglie. Poi Conte ha parlato di 15 famiglie e non donne e bambini. Anche Conte è diverso rispetto a quello che ha detto. Sono arrivati via mare quasi un milione negli ultimi anni e io mi ricordo che il mio stipendio me lo pagano i cittadini italiani e siccome ho 5 milioni di italiani poveri che non hanno da dar da mangiare ai loro figli, io mi devo occupare di questi 5 milioni di italiani poveri. Quando avrò sfamato gli italiani poveri aiuto il resto del mondo. Quindi la risposta è no anche a 15 famiglie. Sarebbe un segnale di cedimento che fa dire agli scafisti, ah beh, 10 oggi, 20 domani, 30 dopo domani, in Italia, a Malta, continuiamo ad andare a prenderli, ci pagano, ci compriamo droga, perché tanto prima o poi in Italia ci arriviamo. E in Consiglio dei Ministri lei dirà questo. In Italia non ci arrivano, io dico agli scafisti che magari ti guardano, mi auguro che tu abbia un pubblico diverso, ma magari hai anche uno scafista, che ne sai. Ti stanno guardando e gli voglio dire, basta, stop, fine, chiuso. Allora, se dovessero essere sbarcati a Malta, tutti e 49... A parte che Malta ha detto io non li faccio sbarcare, quindi non sbarco. Ma ne sono arrivate alcune centinaia, a fine anno in Italia. Tu hai sentito qualcuno degli altri paesi europei direvi da una mano? Zero. E perché noi, con i problemi che abbiamo in casa degli italiani, dobbiamo andare a casa altrui a farcicare noi problemi? Perché dicono sono 15, perché magari c'è qualcuno che dice sono 15, lasciamo di perdere. Però, Ministro, io le voglio chiedere una cosa, voglio fare un passo avanti, posso fare un passo avanti su questo? Lei è durissimo su questo, è molto preciso. No, no, durissimo, chiarissimo. Chiarissimo. È coerente. Dica come vorrei, però è chiaro il concetto per me. Sì. Allora, lei si rende conto che Dio non voglia, avviene qualcosa, c'è il brutto tempo, c'è la nave, un bambino si sente male. La responsabilità politica non ce l'avrà l'Europa, non ce l'avrà lei. Ma tanto, qualunque cosa accade nel mondo è colpa di Salvini, anche se succede qualcosa in Nepal è colpa di Salvini. Quindi, questo onestamente non mi... No, però, ripeto... Lei ha capito la... Sì. Però, ripeto, a stasera stiamo parlando di due imbarcazioni, di furbetti, che sono in acque maltesi, una olandese e una è tedesca. Cosa c'entra Porro? Salvini e l'Italia. Stiamo parlando di tre paesi sovrani, facciano il loro, come l'Italia ha fatto il suo in passato. Pala è salita su una nave, guardi che cosa dicono sopra una di queste due navi, guardiamo. Applausi Stiamo provando a raggiungere le due navi delle due ONG tedesche, sia a Watch e in Italia. Si sono allontanate dalle coste di Malta, hanno in tutto 49 migranti, la Sea-Watch ha trovato il 22 dicembre, quindi più di 15 giorni fa, 32 migranti, mentre la Sea-Eye ha 17 migranti. Possono stare nelle acque territoriali di Malta, ma non possono attraccare. Sono in attesa che l'Europa decida in quale porto possano attraccare. Il comandante della nave non ha ricevuto ad oggi nessuna comunicazione che indichi alcun tipo di soluzione per lo sbarco di queste persone. Quella è la nave della Sea-Watch, quella è quella della Sea-Eye, sono molto vicine, la Sea-Watch si sta muovendo, si vede, va in quella direzione. Noi pescatori ogni tanto incontriamo i migranti in mare, loro vogliono andare in Italia, ci chiedono dov'è l'Italia, anche quando arrivano qua e perché pensano che Malta sia l'Italia, loro non vogliono venire qua. Il primo porto sicuro qual era? Italia o Malta? Lampedusa era più vicina di Malta. Questo è il punto su cui c'è l'equivoco, loro dicono il porto sicuro più vicino è Lampedusa. Erano abituati così negli anni passati con altri ministri e altri governi, si va tanto in Italia, ci fanno arrivare, danno tutto a tutti, non distinguendo fra profughi veri e profughi finti che poi vanno in giro per Roma, per Milano, per Napoli a fare casino. Io faccio arrivare in Italia in aereo, non sul barcone centinaia di donne, bambini, disabili e anziani che scappano davvero dalla guerra, ma sono stufo di pagare con i soldi degli italiani migliaia di persone che non scappano dalla guerra e vengono qua a spacciare, a scippare, a mendicare e a far casino. In Italia si arriva se si è alza e messo di arrivare. Anche perché, ti aggiungo, che queste ONG hanno contravvenuto, hanno disubbidito all'indicazione della guardia costiera libica che stava andando a soccorrere questi immigrati per riportarli indietro, se ne sono fregati, probabilmente perché hanno bisogno di merce, hanno bisogno di uomini e donne, hanno bisogno di business. Se mi chiama la guardia costiera di un paese che mi dice sto arrivando, non muoverti, io me ne frego, li vado a prendere, li vado a caricare e li tengo in mezzo al mare, sono quei signori presunti buoni che hanno sulla coscienza questi 49 esseri umani, che adesso sarebbero in terraferma se ciascuno avesse rispettato le regole. Su questo lei è d'accordo, diciamo il governo è unitario, però secondo me una parte del governo dalle dichiarazioni colletto in Consiglio dei Ministri dirà caro Ministro Salvini, quindi ci riportiamo perché non possiamo... Io vado ai fatti. E lei cosa farà in quel Consiglio dei Ministri? Continuerò a dire e a fare quello che ho detto. Potrà farlo da solo senza la collegialità del Consiglio dei Ministri? La responsabilità del Porto e del Ministro dell'Interno. E quindi l'anno scorso si è chiuso con 100.000 sbarchi in meno e con tanti morti in meno, perché meno ne partono, meno ne muoiono. E ricordo soprattutto, sono stato in Abruzzo, venerdì e sabato, ci sono ancora ad esempio a Teramo migliaia di italiani dopo anni, dopo il terremoto, fuori da casa loro. Io mi voglio occupare di quelli italiani per rimandarli in casa, ok? Senta, un altro fronte che si è aperto, quindi insomma su questo diciamo che con Conte e Di Maio, lei quando viene qua, le dico la verità. Dica. Lei quando viene qua getta acqua sul fuoco della possibile, diciamo, differenza tra lei e Di Maio. Io voglio risolvere i problemi, non crearli. Sì, però poi nel governo ci sono posizioni diverse, noi facciamo il nostro mestiere. Ma poi l'accordo si trova sempre, porro, stia tranquillo, stia sereno. E calda, non è andata bene l'ultima volta. Senta, mi dica una cosa, lei tanto sereno con i sindaci non ci sta adesso? Ma no, in Italia ci sono 8 mila sindaci e li ringrazio perché fanno un lavoro in mano e soprattutto dei piccoli comuni. Per 300 o 400 euro al mese lavorano 18 ore al giorno, fanno i vigili urbani, spalano la neve. Su questi 8 mila sindaci ce ne sono 15 che fanno i fenomeni che invece di occuparsi di ripulire le strade di Napoli e Palermo litigano con Salvini. E mi spiace per i cittadini di Napoli e Palermo che hanno dei sindaci che non sanno fare il loro mestiere. Eccoli qua, sindaci contro. Sa che qua abbiamo il tavolo. Ah, c'è la lavagnetta. Ecco la lavagnetta, quello che c'è costata. Allora, sindaci contro Orlando, De Magistri, Spascucci, Soddu e Drei. Poi ci sono i sindaci che noi abbiamo titolato, a lei non piacerà, moderati. Perché moderati? Perché alla fine Falcomatà, Pizzarotti, Nardella, Sala, Gori, Vecchi, in realtà dicono che non ci piace il decreto sicurezza ma dobbiamo applicarlo perché questo è il nostro... È una legge. È una legge. Magari se uno ha fretta magari vorrebbe passare col rosso ma non si può passare col rosso. Ci sono delle leggi, vanno applicate le leggi. E questo riguarda anche i Cinque Stelle, Nogarinde, Pasquale, Zuccalà e Savarese dicono di no. Adesso le faccio sentire, per metterla di buon umore, un sindaco che non è tanto d'accordo con lei, mettiamola così. Però, par condicio, lei non se ne approfitti del fatto che in questo momento non è in studio. Io mi taccio. Sentiamo De Magistris. Buonasera, ministro. Le parlo da Napoli, sono Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. Io non penso, glielo dico con sincerità, che questa legge aumenti la sicurezza nel nostro paese. Aumenteranno le concentrazioni dei migranti tutti negli stessi luoghi come bombe sociali, cosiddetti centri di accoglienza straordinari. Ci sarà un aumento della clandestinità e quindi persone che diventeranno vittime anche del crimine comune e del crimine organizzato. Si diminuisce la possibilità di quell'integrazione diffusa, come hanno fatto i sindaci sinora, in tutti i territori in proporzione al numero di abitanti. E potrei continuare. Lei non si infastidisca, non chiede alle dimissioni dei sindaci. I sindaci sono eletti direttamente dal popolo. Lei spesso si appella al popolo. A presto allora rivederci, magari anche in mezzo al mar Mediterraneo, che ritorna a essere un mare di pace e non di sangue, e magari a finalmente salvare quelle vite umane che anche per colpa del governo italiano continuano a lottare tra la vita e la morte, al gelo e nel mare in tempesta. La video lettera di De Magistris, però contiene alcuni aspetti. Primo aspetto, fino a che punto può arrivare? Glielo chiedo perché quando, guardi, riguardò anche i sindaci leghisti, si ricorda sulla Cirinale? Guardi, io sono tranquillissimo. Anzi, Andrea ha letto ascoltando De Magistris. No, no. Ha letto come De Magistris? No, ascoltando De Magistris, perché a De Magistris, non rispondo io, in questi giorni stanno rispondendo migliaia e migliaia di napoletani che vorrebbero un sindaco che si occupasse di immondizia, di scuole, di giardini, di case popolari, di sicurezza, e questo dice ho pronte 400 navi da Napoli per andare a salvare gli immigrati. Ma salva 400 napoletani che aspettano una casa da anni, invece di preoccuparti di resta. Ma le due cose sono in contrasto, Ministro? Beh, secondo lei, un sindaco di una città bella ma complicata come Napoli, dove io sono stato, e nel decreto sicurezza, magari non se n'è accorto, perché è occupato a fare le sue danze, ci sono ad esempio 100 vigili urbani in più per Napoli, perché io voglio aiutare i napoletani a prescindere dal sindaco più o meno bravo o più o meno simpatico. Ci sono i vigili urbani, c'è il sistema dell'invito sorveglianza, ci sono i soldi per combattere gli spacciatori fuori dalle scuole. Sono andato nel quartiere del Vasto, a Napoli, dove grazie ai fenomeni della sinistra c'erano centinaia di immigrati che tenevano in ostaggio i napoletani e gli italiani. E li stiamo liberando, perché il sindaco di Napoli non capisce che è una città che ha tanti problemi. Quindi lo invito a dedicare le sue ore, visto che per questo gli pagano lo stipendio i napoletani, a Napoli e non al resto del mondo. Amico mio, occupati di Napoli e risolvi i problemi di Napoli. Che problemi dell'Italia ci penso io. Perché questi sindaci, secondo lei, Orlando, De Magisi, sono anche sindaci diversi, Gori, non metterà sullo stesso piano Sala, Gori e De Magisi, Orlando? Perché sono tutti quanti? C'è qualche cosa in questo decreto sicurezza che poi oggettivamente può essere complicato per i sindaci? Ma no, guardi, ci sono 8.000 sindaci in Italia. Quanti sono quelli che hanno protestato? 20? Sì. 30? Vuol dire che gli altri 7.950 sono contenti perché hanno più poteri, più soldi, più telecamere, più uomini, più mezzi, più vigili contro i parcheggiatori abusivi, contro i mendicanti. Quindi l'universo mondo dei sindaci di destra e sinistra della Lega, mica della Lega, è contento. Vogliamo scommettere che qualcuno di questi fenomeni, visto che non verrebbe più rieletto sindaco, si candiderà alle prossime elezioni con tanti saluti ai napoletani. Lei sta dicendo che è un'operazione politica dietro a questo. Sì, anche perché non hanno letto il decreto, anche il Presidente della Regione Lazio ignorano perché il diritto alla salute e allo studio non viene tolto a nessuno. Sì, sì, sia chiaro su questo. Anzi, il diritto alla salute e allo studio non viene tolto a nessuno. Anzi, per assurdo, perché secondo me non è corretto, un immigrato clandestino adesso, stasera, va a Roma a un pronto soccorso, non paga il ticket, non fa la fila e gli fanno quello che vuole. Mentre l'italiano aspetta la lista d'attesa e paga il ticket. Quindi hanno anche più diritti. Ma è col decreto cosa cambia? E col decreto cosa cambia? Col suo decreto cosa cambia? Non cambia nulla su questo. È tutto uguale? Su questo, così come sui diritti dei bambini, che non possono essere espulsi, non cambia nulla. Quindi quando qualcuno di questi fenomeni dice tolgono la scuola o tolgono la sanità, o è in mala fede o non sa leggere. Ma non avranno questa carta d'identità, non potranno avere la carta d'identità, questo è il concetto. Hanno tutti i diritti riconosciuti uguali? Mi perdoni, io la carta d'identità la do a chi ha diritto di rimanere in questo paese, non a quelli che magari sono finti profughi. Posso dare la carta d'identità a chi merita di stare in Italia? Io do rispetto a chi porta rispetto. Ai furbetti, la cittadinanza e i documenti non li do. Gli garantisco i diritti, ma gli italiani avranno qualche diritto in più rispetto a chi arriva domani mattina, sì o no? Questa è un'idea per cui molti potrebbero essere in contrasto da un punto di vista ideologico e politico, cioè che gli uomini sono uomini indipendentemente da dove sono nati. Ma mi scusi, se io ho una casa popolare a Pescara e ho un italiano che è qua da 30 anni e uno che è arrivato l'altro ieri, potrò darla all'italiano che è qua da 30 anni o no? Secondo me è un sacrosanto diritto. Ma lei preferisce un immigrato che non ha la carta, che sta qua in una stazione, clandestino, che lei non riesce a mandare via perché non riesce a farlo espatriare o uno che comunque controlla il nome, il cognome? Questo è un punto pragmatico, lei è un pragmatico, non è meglio individuarla? L'anno scorso ne abbiamo fatti sbarcare di meno e ne abbiamo espulsi di più. L'obiettivo è farne sbarcare sempre di meno ed espellerne sempre di più, anche per garantire tutti i sacrosanti diritti ai profughi veri, perché c'è una minoranza di quelli che arrivano che scappano davvero dalla guerra, che non possono essere messi nello stesso pentolone dei ragazzotti che si vedono in giro per Roma ai 30 anni che poi vanno a San Lorenzo a spacciare o vanno a stazione Termini o vanno in giro per la città. Ma molti sono regolari di quelli là, quelli che occupano i palazzi nelle periferie romane non sono regolari. Quindi il mio obiettivo è fare quello che non hanno fatto coloro che c'erano prima di me, riallontanarli gentilmente dall'Italia, aiutare i sindaci a integrare i profughi veri. Sulla cittadinanza, si ricorda i fenomeni del PD, lo Ius Soli, lei sa che l'Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze ogni anno già con la legge di oggi, e oggi è la ricorrenza del tricolore. Avrà ancora un senso essere cittadino italiano o regaliamo la cittadinanza come il biglietto all'una parte? L'ISPI, che non è esattamente un partito politico, sostiene che, vediamo la grafica, dei 490 mila irregolari del 2018 che lei ha ereditato, con il decreto sicurezza per vari motivi si arriverà a 622 mila. Sbagliano. Perché sbagliano? Perché ne sbarcheranno sempre di meno e ne espelleremo sempre di più. Ma lei riuscirà a espellere? Ministro, questo è il vero punto che tutti si chiedono. Sì, stiamo lavorando ad accordi con i paesi di provenienza che chi c'era prima di me non ha mai fatto. Questo me lo lasci dire. Io non commento il passato, io lavoro per il futuro e mi impegno per il futuro. Però mi domando come passassero il loro tempo i ministri dell'interno che c'erano prima di me. Se arriva Salvini, che non è un genio, tutt'altro, ad esempio in questa manovra economica, mette i soldi per assumere 8 mila vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri per tappare i buchi lasciati da altri, come passavano il tempo i ministri prima di me? Però insomma, Minniti è ingeneroso con il ministro Minniti perché tutti dicono che la prima parte... li ho trovato, 4, 4 accordi di espulsione con i paesi africani, 4. E lei però quanti ne è riuscita a fare in 6 mesi? Io faccio, dico quando ho fatto, siamo in contatto con tanti paesi perché bisogna lavorare, incontrare, sono andato in Ghana, sono andato in Tunisia, in Egitto, in Libia, sono andato anche in Romania per un accordo che prevede anche l'allontanamento dei detenuti italiani nei paesi di provenienza perché altrimenti le carceri italiane scoppiano e tutto questo in 6 mesi. Mi domando gli altri in 6 anni che cosa hanno fatto. Lei è preoccupato però di questi amministratori locali, sindaci, è vero che sono 20, governatori che iniziano sul decreto sicurezza o come qualcuno inizia a sospettare che stanno facendo un regalo per le elezioni europee? Io sono pagato dagli italiani per risolvere i problemi, non per fare polemiche, quindi i sindaci risponderanno ai loro cittadini. Se i cittadini di Palermo sono contenti di come è messa Palermo e del fatto che il loro sindaco invece di occuparsi dei problemi delle periferie di Palermo vada in giro per il mondo a occuparsi dei problemi del resto del mondo, lo giudicheranno loro. Io sono contento di quello che sto facendo dal Ministro dell'Interno e a giudicare... Poteva fare di più? Sempre si può fare di più. Ma lei si toglie, c'è una cosa che dice, beh lì forse ho sbagliato, avrei potuto in questi primi sei mesi fare qualche cosa di più? Ho sbagliato a mangiare pane e Nutella. No! Allora glielo faccio vedere che cosa ho mangiato. Adesso glielo voglio veramente... Me l'ha tirata fuori perché ce l'avevo pronta questa cosa qua. Io ho fatto un colla... Però mi lasci dire che se mi attaccano dopo sette mesi di lavoro del Ministero dell'Interno per una settimana perché ho mangiato pane e Nutella... Fateglielo vedere, facciamolo vedere che cosa è riuscito a mangiare Salvini in questi sei mesi perché è una cosa moscuosa. In sei mesi lei non è stata a dieta in sei mesi. Ho capito, io sì, sì. Lei non ha mangiato per sei mesi. Lo possiamo vedere. Si è fatto il pane a Nutella, si è fatto i fagioli, si è fatto... Cioè si è mangiato qualsiasi cosa. Ma perché poi le posta queste cose che si mangia? Ma potrò mettere su Instagram, condividere un piatto di pasta. Lei cosa gliene frega? Le fa male se io mangio gli spaghetti? Mi ha detto moltissimo, però è roba soltanto italiana, è solo sovranista ha preso lei. Beh, io preferisco se vado in Abruzzo mangiare gli arrosticini, se vado a Catania mangiare un arancino e se vado in Valtellina mangiare i pizzoccheri. Se a lei piacciono le cicale, le formiche e gli spoiattoli se li mangi lei. Lo sapevo che me la portava a casa questa cosa. Allora adesso la batosta finale arriverà dall'amorizzo di Tecne che mi deve dire è che gli italiani sono contro Salvini e sono a favore dei sindaci. Lei avrà fatto un sondaggio, spero che sia stato ben orientato dalla nostra redazione. Non è stato orientato. Noi pilotiamo tutti i sondaggi, Ministro. Allora cosa ne pensano gli italiani? Allora, gli italiani, il 55% degli italiani dà ragione a Salvini. Nel senso che dice la legge è giusta e va applicata, è una normativa corretta e devono applicarla. L'8% la pensa un po' come quella minoranza di sindaci che dicevamo prima in cui si dice la normativa è sbagliata ma la legge va comunque sempre rispettata. Il 26% invece dà ragione totalmente ai sindaci. Senta, Maurizio, ma secondo te, scusami, questo 55% è un numero elevato per questioni che dividono la politica? Assolutamente sì, nel senso che normalmente si trova o un livello di incerti molto più alto oppure anche un livello di contrari decisamente più alto. In questo caso qua significa che intanto è stata compresa in maniera positiva ed è stata compresa dai cittadini perché il 55% ha un'idea molto chiara che se ci aggiungiamo l'8% che comunque pensa che potrebbe essere migliorata. Basta, basta, non è riuscito a pilotare il sondaggio. No, ovviamente si tratta di una battuta e mi scuso con Tecne, è ovvio che Tecne ride sempre con me la Maurizio e sa che scherziamo su questo. Vediamo i partiti come stanno andando. I partiti invece come stanno andando? Allora, la Lega rispetto a un mese fa cala e arriva al 31,8%. È un sondaggio rifatto questa mattina, nella giornata di oggi, ecco, passata la pausa festiva. Il Movimento 5 Stelle cala ulteriormente, scende sotto il 25%, fermandosi al 24,9%. Cresce leggermente il PD al 17,8%. Intostabile Forza Italia rispetto a un mese fa, Fratelli d'Italia, siamo sempre intorno al 4,2%. C'è da dire che in questo momento, come spesso accade nelle fasi di approvazione di una manovra finanziaria, crescono i partiti minori a discapito un po' dei partiti principali. Ma è un po' fisiologico, ecco, come ita del periodo. Grazie, grazie a tecnici, grazie a Maurizio. Io vorrei farle vedere un'intervista che abbiamo realizzato all'onorevole De Falco, che è uno di quelli che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Non è roba sua, è dell'altro partito. Però le faccio vedere che cosa dice, sentiamo. Senatore De Falco, ma lei è il capo dei dissidenti? No, no, no. De 5 Stelle? No, no, io sono uno dei coerenti. Coerenti? Credo che sia più opportuno dire così. Ma lei non appoggia più la maggioranza dunque? Se dovessero riproporci provvedimenti del tutto differenti rispetto alla sensibilità del Movimento. Tipo il decreto sicurezza? Tipo il decreto sicurezza. Io non lo voterei. Ma che cosa non le piace del decreto sicurezza in particolare? Che non funziona. Lei pensa che aumentano i clandestini con questo decreto sicurezza? Secondo me, ma secondo tanti, a questo punto se ne sono accorti. Ma non secondo Salvini però? No, no, secondo Salvini forse no. È l'unico coerente anche lui dalla sua parte. Quindi c'è qualcosa che la lega con Salvini alla fine? All'opposto però, è coerente. Porti chiusi? Purtroppo per lui. Non è il ministro competente. Il ministro della sicurezza è lui? Il ministro competente è il ministro delle infrastrutture e trasporti. Oggi lui, il codice, parlava ancora del ministro della mania mercantile. Toninelli? Toninelli. Anche in ordine all'ordine pubblico, anche relativamente all'ordine pubblico. Salvini sta facendo un'ingerenza secondo lei? Chi dice che i porti sono chiusi lo deve provare. Allora io vorrei che il ministro che lo dice, voglio dire, coerentemente, esibisca il provvedimento di chiusura dei porti. Non c'è un provvedimento lei dice? Non lo conosco. Va bene, senza entrare, è solo il merito. Non sa, e quindi è giusto spiegare più che al senatore che dovrebbe saperlo perché è pagato per conoscere le leggi. Agli italiani che ci guardano, che invece non sono pagati, sono arrivati a casa dopo una giornata di lavoro, comunicano al ministero dell'interno la richiesta di quale porto è affidato a questa barca. E il ministero dell'interno diceva, Catania, Lampedusa, Grigento, Napoli, Genova, Trieste, Augusta, il ministro dell'interno non dà la disponibilità di nessun porto. Quindi Magistris per esempio non può dare disponibilità del suo porto. Ma le pare che sia il sindaco di Napoli a controllare chi entra nel porto di Napoli? Non è una più pallida idea. Ma può fare simpatia, se non fosse sindaco di Napoli sarebbe anche simpatico. Ma con tutti i problemi che hanno i napoletani, purtroppo, mi spiace per i napoletani che hanno un sindaco così bizzarro. Però le volevo far vedere un'altra questione sulla vicenda dei Falco, cioè che al Senato, lei è sempre convinto che dura tutta la legislatura questo governo? Certo. Io quando firmo un patto lo mantengo. Guardi, glielo faccio dire tutte le puntate, perché poi farò un collage al quarto anno e dirò, avevo torto. C'ho questo difetto di non cambiare idea, c'ho questo enorme difetto. Guardi, questo glielo riconoscono anche i suoi nemici riguardo al decreto sicurezza, gli immigrati, glielo riconoscono tutti. Però questa è la maggioranza al Senato, 161, oggi avete 165 voti, 4 persone di maggioranza. Come si fa a tenere questa maggioranza? 4 è meglio di 3, quindi 4 è meglio di 2. Su alcuni provvedimenti, poi anche ad esempio sul decreto sicurezza, abbiamo raccolto anche voti delle opposizioni. E io l'avore va arrivare. Sul decreto sicurezza, lei sembra molto... Se c'è una legge giusta, io sono contento che anche i parlamentari che non sono in maggioranza, che non la pensano come me, dico, bravo, questa legge serve, perché ad esempio questa legge raddoppia il personale, la potenza, i mezzi e gli uomini dell'Agenzia dei beni confiscati alla mafia. Io mi domando se un sindaco di Palermo e un sindaco di Napoli, dove purtroppo la mafia e la camorra hanno radici pesanti e bastarde, dicano io disapprico il decreto che aumenta l'antimafia. Mi sembra molto strano per un sindaco di Palermo o un sindaco di Napoli. Mi contestano il fatto che un richiedente asilo che spaccia venga espulso. Perché secondo voi è normale che un richiedente asilo che viene beccato col panetto di droga in mano continui a fare il richiedente asilo? No, io non accetto. Gli dicono che c'è un fatto di garantismo e che finché non si è condannati fino al terzo grado... No, se ti becco il panetto di droga in mano e ti sto mantenendo in albergo, ti rispedisco a casa e ti sei visto, sei visto. Lei quindi non si scandalizza dell'idea che su questi temi, diciamo, di destra, la metto semplice... È come di destra, la sicurezza è di destra o di sinistra? Come diceva Minniti, non è né di destra né di sinistra. Guardi, le posso dire una cosa? La sicurezza è più di sinistra. Perché i fenomeni che stanno nei centri delle città, che hanno l'inserviente, le otto telecamere, il villone con i sei cancelli, non hanno problemi di sicurezza. Gli operai che stanno nelle case popolari hanno problemi di sicurezza. E quindi io penso più agli operai che ai fenomeni che stanno nel villone in centro città. Si allarga questa maggioranza dei 165, secondo lei? Ma stiamo bene in 165. Ma non state bene, sono quattro persone, uno c'è il raffreddore e non viene a votare. Ma perché ci vuole portarrogna? Perché ci vuole vedere c'è malare? Ma un raffreddore capiterà? La vita, no, no, no. Il governo è questo e la sua compagine è uguale. Anche perché c'è da fare la legge sulla legittima difesa, la legge a tutela dell'acqua pubblica, Io la vedo con il Presidente Fico, con Di Battista e con Nunes, con Fattori, sto parlando di parlamentari del Movimento 5 Stelle, a fare la legge sulla legittima difesa. Perché secondo me non è un diritto difendersi da un delinquente che le entra in casa alle tre di notte. Non lo deve dire a me, lo deve dire a una parte del Movimento 5 Stelle. Ma vengo qua con il Presidente Fico a fare un dibattito da lei, se vuole, io sono disponibilissimo, e voglio trovare un italiano che mi dica che se io trovo un delinquente col passamontagna, la pistola o il bastone in mano, in camera mia alle tre di notte, io non ho il sacro santo diritto di difendermi prima di essere aggredito senza passare tre anni in tribunale. Posso difendermi almeno in casa mia o no? In termini generali ha perfettamente ragione, ma nella concreta applicazione di questa norma lei sa benissimo che una parte della sinistra del Movimento 5 Stelle dice la proporzione della reazione. C'è una parte della sinistra che se Salvini dice che oggi è lunedì, no, oggi è giovedì. No, guarda che oggi è lunedì, no, oggi è giovedì. Eh, me ne faccio una ragione, chi se ne frega. Va bene, allora invitiamo Fico. La vita è così breve per perdere il tempo a... Vogliamo fare questa cosa con il presidente Fico? Ci sono, se lei vuole anche settimana prossima. Facciamo sull'immigrazione e sul... Se lei vuole anche settimana prossima. Quindi lei sta sempre qua. Ma no, gradirei anche fare altro e stare altrove. No, no, qua mi metto in televisione, a me va benissimo. Guardi, se mi vuole organizzare un bel dibattito con Fico, Laboldrini, Orlando, De Magistris, Nardella, vengo, vengo, ci sono. No, 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 io voglio la legittima difesa, perché questa cosa... Quello che vuole. Lei lo fa quando? Quando ci sarà la legittima difesa? L'avete calendarizzata, come si dice in termini brutti? Conto che il Parlamento italiano, che è sovrano, la approvi entro febbraio. Sì, ma quella è una legge, non è un decreto legge, cioè è un disegno di legge, bisogna... Che è stata analizzata, discussa, emendata, migliorata, non è il far west, non si vendono le armi in tabaccheria, non ci sono le pistolettate per il parcheggio in seconda fila in mezzo alla strada, ma a casa mia, nel mio negozio, nella mia azienda, ho diritto di difendermi se mi sento in pericolo, senza poi pagare un avvocato che mi difenda per tre anni. Lei dice che a febbraio è passata, io mi ci scommetto un barattolo di Nutella da un chilo. 5 kg. 5 kg di barattolo, venga con me. Andiamo al tavolo. Lo sa che qua c'è il tavolo. Allora, le faccio vedere, è che voi stai sempre in piedi, mi dice no, no, qua si si... eccolo qua. Dica. Questo è un dato che le dà la fastidio. Dica. Pressione fiscale, come la mettiamo? Aumenta la pressione fiscale? Ma per qualcuno aumenta, pagano di più le grandi banche, le grandi assicurazioni, le multinazionali, le società del gioco d'azzardo e pagano di meno le partite IVA, gli artigiani, i pensionati, quindi si fanno delle scelte. I governi passati aiutavano i grandi, noi abbiamo deciso di aiutare i piccoli. Da un punto di vista mediatico comunque, insomma, questo è un elemento fondamentale. Tutti i governi dicono alla fine... Se una partita IVA, un artigiano, un commerciante quest'anno paga solo il 15% e la banca paga qualcosa in più, io sto con l'artigiano, che le devo dire? La fattura elettronica sa che è entrata in vigore, lei ha fatto fatture, no, non fa fatture, non c'è una fattura io. Se vuole dire che sono un dipendente pubblico, io ho lo stipendio pagato dagli italiani. E poi glielo tagliano tra poco, no? Lo tagliate il suo stipendio? Sì, sì, non faccio politica per guadagnarci. No, no, ma lo tagliate questo dei parlamentari? Sprechi e privilegi sono... Il suo stipendio viene tagliato fra un po'. Ma sì, se vuole lo faccio gratis il ministro, non c'è problema. No, non voglio per niente che lo faccia gratis, io penso che debbano essere pagati i politici. Anch'io. Però voi state dicendo che ritaglierete gli stipendi. Dei rimborsi si possono tagliare, per carità di Dio, quando posso e giro in Italia da ministro, dormo nelle prefetture per far risparmiare i due quattrini. Non vado in albergo, sto girando le prefetture in mezzo a Italia, dormendo nel letto in prefettura. Più di così, se vuole mi cospargo il capo di cenere e vado in giro con i sandali. Le sembro po' poerista io? No, no, va bene. Per me può dar problema nell'albergo, perché un ministro si può permettere, un ministro della Repubblica, di fare cose... L'altra cosa che vorrei capire, quante saranno le persone che andranno in pensione nel 2019? Secondo, non solo quota 100, saranno mezzo milione, va bene? Questo è totale. Questi sono quelli che potranno scegliere, bisogna vedere quanti sceglieranno di... Io off io, Salvini, la Lega e il Governo offrono a mezzo milione di italiani la possibilità di uscire dalla gabbia della legge Fornero. Ok. E poi, magari qualcuno sta bene a 63-64 anni, si sente in forma, vuole continuare a lavorare per prendere lo stipendio pieno e andrà avanti a lavorare. Se qualcuno non ce la fa può andare in pensione. Questo le voglio chiedere. Di questi qua, 160 mila saranno dipendenti pubblici. Allora, io ho massima stima dei dipendenti pubblici, lo dico senza ironia, però le dico, ma non sono forse quelli di cui lei pensava che si... Lei come ha detto... Guardi, se c'è una maestra, un infermiere, un medico, un pompiere, un poliziotto con la schiena spezzata che hanno 63-64 anni, secondo me hanno il sacrosanto diritto di andare in pensione e godersi qualche anno di pensione. E non avranno la possibilità di fare un altro lavoro, perché lei dice... No, scusa, se ti mando in pensione perché non ce la fai, non è che cominci a fare un altro lavoro il giorno dopo. Anche perché il mio obiettivo è che queste centinaia di migliaia di posti di lavoro lasciati liberi possano essere occupati da altrettanti giovani italiani che invece di scappare all'estero stiano qua. Ma nella questione dei 160.000, io insisto, nella pubblica amministrazione bisogna fare i concorsi, cioè ci saranno 40.000 persone almeno se dovessero andare... Posti vacanti, cioè che lei non riesce a riempire... Quanto tempo ci metterà a prendere i poliziotti lei? Questi 8.000 di cui parla, quanto tempo ci metterà? Entro quest'anno. Entro la fine del 2019? Entro quest'anno, perché ad esempio in polizia c'è una graduatoria di un concorso precedente, nei vigili del fuoco c'è una graduatoria di concorsi precedenti. Quindi prende le graduatorie dei concorsi precedenti. E in parte assumo persone nuove che faranno il concorso quest'anno. E vale anche per la scuola questo, perché ci sono tutti i concorsi graduatorie, è un casino pazzesco. Sì, abbiamo trovato un casino, una giungla, abbiamo trovato precari, gli abilitati, non abilitati, le maestre... Esatto, ci si perde dietro a questo... E quindi si privilegieranno questi qui? Beh, se uno fa questo lavoro da dieci anni, dal mio punto di vista, questo lavoro lo fa meglio rispetto a chi arriva domani mattina. Però ci saranno anche concorsi ex novo, per chi vuole fare il poliziotto, il vigile del fuoco... Mi spiega una cosa di una persona soltanto, cioè di Bueri. Di? Di Bueri. No, buono, ancora non ho fatto la domanda. No, il presidente dell'Inps. Allora, io voglio capire, questo presidente dell'Inps, che voi non condividete, di cui non condividete alcune uscite... No, è lui che non condivide nulla di quello che facciamo noi. Nulla, dice. Ma lui dà dei dati, è un tecnico. Sì, è un tecnico. Va bene, andiamo avanti. No, ma scusi, il tecnico lo volete sostituire e commissariare, come ho letto sui giornali? No, ma che noi siamo le persone più buone del mondo. Lei lo vuole commissariare, invece il Movimento 5 Stelle no. Semplicemente un tecnico, pagato dai cittadini italiani, dovrebbe applicare le leggi che vengono emanate. Vabbè, ma le applicherà. Ma se dal primo giorno in cui io sono arrivato al governo, questo ho cominciato a dire, la legge Fornero non si tocca, la legge Fornero è bella, Salvini sbaglia, la riforma non funziona. Tu occupati di far funzionare l'Inps, perché non mi risulta che gli sportelli dell'Inps siano il tempio della velocità e della correttezza. Ognuno faccia il suo mestiere. Adesso c'è la legge Fornero da superare, e quindi mi aspetto al presidente dell'Inps, non delle polemiche o delle intervistone, ma il fatto che aiuti gli italiani ad andare in pensione. Questo è il suo lavoro. Se si vuole candidare nel Partito Democratico, si candida nel Partito Democratico. Fino a che fa il presidente dell'Inps si occupi dei pensionati italiani. Va bene. Però perché volete fare un consiglio d'amministrazione? Eravate contro le poltrone, contro questi organi pletorici? Guardi, lo sto seguendo io, non mi faccia rispondere su quello che non sto seguendo. Lei non se ne occupa. Se volete dà una risposta a casaccio, però non mi interessa. E neanche della Consob, sa niente. Sono sei mesi che aspettiamo il presidente della Consob. Non seguo le nomine, onestamente. Non seguo neanche una. Il Rai le ha fatte un sacco di nomi. Io, tutti, certo. Basta guardare i programmi della Rai. Non mi faccio parlare di Rai. Non posso parlare di Rai. Non mi faccio parlare. Parlo di cucina, per quello che riguarda la Rai. Non parlo di altri. È un po' polemico con i programmi della Rai. Veramente, eh? Mi aspettavo... Mi aspettavo un cambiamento e un'obiettività e una trasparenza un po' più veloce. E vabbè, fa niente, va bene così. Tanto gli italiani ragionano anche con la loro testa. Giusto. Fortunatamente. Sta parlando anche dei telegiornali? Andiamo avanti alla prossima. Allora, sul reddito di cittadinanza c'è una sentenza, Martinez, per la quale, questa sentenza è una sentenza che poi faremo vedere, per la quale una signora stupenda, una signora boliviana, molto carina, ha detto io ho pregato tanto e poi il giudice mi ha dato ragione perché ho il permesso di soggiorno e mi hanno considerato per un bonus che dovevo avere come un italiano. Allora, se ci sono queste sentenze che dicono che gli stranieri sono come gli italiani, alla fine il reddito di cittadinanza andrà agli stranieri in quota, che noi abbiamo calcolato, a 920 mila persone. Andrà agli stranieri. Se si applica questa legge, questa direttiva europea, per cui tutti uguali, sentenza Martinez. Quindi, questo non c'è nulla di male, però è un numero che fa sballare i conti. Noi dobbiamo mettere dei limiti. Dobbiamo mettere dei limiti. C'è chi propone 10 anni di residenza in Italia, secondo me è giusto, è il minimo. Come per le case popolari, ad esempio nelle regioni dove vengono la Lega, gli stranieri, gli immigrati, regolari e per bene sono i benvenuti. Cioè uno che arriva qua, paga le tasse, manda i figli a scuola, porta rispetto alla nostra cultura, è il benvenuto. Mi devo dare delle priorità, quindi per accedere a una casa popolare o a un contributo pubblico, al bonus bebè, al bonus famiglia, devi aspettare un po' di anni. Secondo me non è discriminatorio. Ma 10 anni per avere? 10 anni, secondo me è un requisito... Sa che c'è un'obiezione su questo? Io sono un italiano, sono andato all'estero per 5 anni per lavorare, torno in Italia, così come è stato scritto, io sono come uno straniero. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, perché i 5 milioni di italiani all'estero, secondo me, vanno trattati in maniera diversa rispetto a chi è arrivato da un altro paese senza aver mai pagato una lira di contributo in Italia, ma così come dovremmo lavorare, anche qua non oso immaginare i titoloni sulle pensioni sociali date per i ricongiungimenti familiari ai parenti degli immigrati che non hanno mai vissuto in Italia, non hanno mai pagato un euro in Italia e si beccano la pensione sociale. Fermo, faccia capire. Secondo me non è corretto. Faccia capire bene. Sì. È già un casino. Pensioni. Sì. Pagate a chi? Pagate a suo padre di 70 anni che arriva da un paese nordafricano e che per il solo fatto di essere suo padre e arrivando in Italia ha la pensione sociale. Cioè la pensione minima e sociale se la prende un signore soltanto perché è mio padre perché si ricongiunge con me in Italia. Non avendo mai vissuto un giorno in Italia non avendo mai pagato una lira di contributo in Italia. Mai previsto questo nel... No, è la legge che è già vigente. No, ma dico, volete cambiarla questa norma? Io lo cambierei perché non è corretto regalare soldi a qualcuno che ha vissuto tutta la sua vita in un'altra parte del mondo e non ha mai fatto un giorno di lavoro in Italia. Secondo me non è giusto. Senta Ritorniamo al suo posto perché adesso le devo chiedere una cosa molto più delicata e cioè... Sì, dica. Come è andata oggi con i tifosi? Non c'erano? No, no, c'erano i rappresentanti... C'era lei? No, c'erano... C'è una figura di mediazione fra le società e le tifoserie che garantisce il dialogo fra le società e le tifoserie con cui abbiamo dialogato a me interessa sradicare la violenza dagli stadi e quindi mettere fuori dagli stadi a vita e mettere in galera i teppisti, i delinquenti quelli che vanno in giro col coltello con la spranga con l'ascia con la mazza da baseball che non sono tifosi chiedo a voi giornalisti la cortesia di non dire tifosi quelli che sono dei delinquenti che meritano di andare in galera quindi stiamo lavorando per restituire gli stadi italiani alle famiglie Ma lei non vuole chiudere lo stadio se c'è il coro razzista per quale motivo? Lo spieghi voi Io voglio sradicare la violenza E questo l'abbiamo capito Ovviamente voglio educare e infatti riporteremo l'educazione civica sui banchi di scuola dall'anno prossimo perché bisogna rispiegare il rispetto reciproco ai bimbi di sei anni Ma come la Boldrini Perché se un bimbo Come la Boldrini No Però Bellissimo Ibu Poi lì è un casino sospendere le partite rischi di essere ostaggio di una minoranza che se ce l'ha col presidente che se ce l'ha con l'arbitro che se la sua squadra sta perdendo inizia a dire bu, bu, bu partita sospesa Mi sembra Noi dobbiamo eliminare la violenza educare al rispetto Poi però un po' di colori un po' di striscioni un po' di bandiere allo stadio lo portiamo Possiamo divertirci almeno per quei 90 minuti poi si esce dallo stadio pacca sulla spalla Amici come prima I primi però ad avere responsabilità oltre che se il tifoso sbaglia va punito e va messo in galera Però i primi ad avere testa dovrebbero essere ad esempio i calciatori che vengono pagati milioni di euro che non possono mandare a quel paese l'arbitro che non possono picchiare un calciatore di un'altra squadra e quindi tu i giornalisti Però reagiscono anche al coro razzista devono essere meno emozionati Se io dovessi reagire agli insulti che mi arrivano quotidianamente passerei la mia giornata a piangere Fortunatamente Ma lei è pagato più di un giocatore di calcio Ma lei sta scherzando È una battuta Quello che guadagna non faccio nomi perché non ho bisogno di altri amici ma mediamente un giocatore che sta in panchina in serie A io ci metterei dieci anni a guadagnarlo Tipo Iguain Sono orgoglioso di quello che faccio e lo faccio perché ci credo per i miei figli e per gli italiani però chi guadagna dieci milioni di euro all'anno deve usare la testa in campo e fuori dal campo e deve dare il buon esempio Le voglio fare un'altra un'altra diciamo domanda Secondo lei lei potrà continuare a tenere questi temi dell'immigrazione visto che si propongono temi di cronaca fino alle elezioni europee Ma guardi non l'ho cercato io questo dibattito Noi stiamo lavorando ad esempio sui temi della disabilità in questa manovra economica non l'ha detto nessun giornale nessun telegiornale perché evidentemente i disabili non fanno gran notizia è meglio parlare di immigrazione aumentiamo le detrazioni per i cani guida dei ciechi finalmente verrà riconosciuta la lingua italiana dei segni e l'Italia era l'ultimo paese europeo a non riconoscere i diritti di chi non ci sente assumeremo in tre anni 40.000 insegnanti di sostegno per i bimbi disabili nelle scuole quindi io di questo mi vorrei occupare del diritto e forse di qualche cartello scritto in italiano sui campi da sci anche converrebbe farlo perché quello è un caso incredibile però io purtroppo non posso continuare oltre perché se no parco il ticcio quindi voglio dire che chi è che ha tiato fuori il tema immigrazione diritto alla sicurezza io stavo mi stavo anzi io sto lavorando su altro io sto lavorando sulle ville confiscate ai mafiosi per restituirla agli italiani se a sinistra ci hanno gli immigrati sempre in cima ma i loro pensieri ma anche qualche lato su di governo caro ministro non mi faccia litigare vado d'accordo con Conte e con Di Maio andiamo d'amore e d'accordo grazie a ministro Salvini tra poco le pensioni d'oro come verranno tagliate tra poco grazie